Salve pubblico di eccellenze e matrimonio, sono Valeria De Pozzo. La mia famiglia 40 anni fa ha creato Palmina Sposa, azienda di primissimo piano per le donne che sanno apprezzare le migliori firme internazionali dell'alta moda sposa e cerimonia. Nel nostro rinomato atelier di Cassino, la mia famiglia e il nostro staff saranno lieti di guidarvi nella scelta dell'alto, seguendo con passione tutti i desideri delle future spose. Nella nostra sartoria artigianale interna sarà inoltre possibile creare capi esclusivamente su misura. Per una scelta unica e di eccellenza, vi aspettiamo per scegliere insieme il vostro abito di soli. Grazie 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 Grazie